Vincena, lo magnificentissimo Rione, Falcetta, Feudo e la nobilissima famiglia Crivelli. Grazie. Vincenzo Domino, Domius Branda Castelliotti. Vincenzo Domino, Domius Branda Castelliotti. Cardinali Samilensis, Cardinali della Santa Romana e Ecclesi, Episcopum del Vecensio, Episcopum Cardinalis Corcuensis, Episcopum e Conte della nobilissima e antica Civitale dell'Espio, il loco d'Eugaria, Cappellano e Maturus Quinto, L'Evra, l'Evra pubblico di Giuseppe Modico dell'Università di Maria, Articolo e Dio. Eccolo, il protagonista di ogni edizione del Pantri Castelli, il Cardinale Brada Presidio. Non è un'ottima, ma nemmeno, non è un'ottima, ma nemmeno, non è un'ottima, ma nemmeno, non è un'ottima, ma nemmeno. Grazie. Ciao. Vincenzo, i nomi di Calvari e le sovi Madonne del Pantri. Grazie. Grazie. Grazie.